ehi la ciurma e benvenuti in questo brevissimo video di mine test se per caso non aveste già visto il video spiegazioni di cosa succede in questo periodo vi consiglio di andarlo a vedere è uscito più o meno una settimana fa suppongo io sto registrando questo appena dopo quello quindi non posso dirvelo e niente quindi questo video sarà abbastanza breve allora se qualcuno di voi ha notato nello scorso episodio no non era nello scorso episodio qualche episodio fa un tale utente diciamo uno della ciurma uno dei nostri che si chiama come nickname una cosa così con tante u h e h u tipo o il pokémon solo che con u u u u che si invertono che tra l'altro ringrazio molto davvero grazie si è stato importantissimo perché certe cose di questo tipo su mine test sono complesse perché non si trova documentazione ed è molto complesso capirci qualcosa da solo certe volte allora lui mi aveva fatto vedere una disposizione tipo questa solo che con un pistone da questa parte qua per automatizzare le farme di grano l'immagine potete vederla tutti voi diciamo andando su quel link la qua c'è un un bloc perché avevo messo c'era ancora l'altra mod farming attivata su questo mondo in creativa che avevo creato prima quindi avevo messo del grano che non era il grano quello della default e quindi è rimasto un un bloc quando l'ho tolta e non funzionava naturalmente perché aveva un un settaggio diverso comunque qua c'è un node breaker qua c'è un node detector che serve per visualizzare appunto il blocco che c'è davanti per trasmettere un impulso di mese con in base a quello che si trova davanti il node breaker manda a una chest che poi aveva un filter injector e qua c'è un sorting tube che manda qua nella chest il grano e giù sotto rimanda a quello che qua non si vede perché qua sotto al deployer che mette i semi diciamo li mette là nel li pianta automaticamente in quello che dovrebbe essere suolo fertile qua c'era dell'acqua adesso l'ho tolta perché tanto quello non cresceva e appunto qua parte un segnale di mese con verso quello e poi più in basso parte un altro segnale di mese con che ha un delayer qua a un secondo verso l'altro così che appunto quando il cosa se n'è andato l'altro può piantare ho messo un delayer per essere sicuro che quello fosse sparito nel senso che non si attivassero insieme insomma tanto non è problematico insomma qua avevo fatto delle prove per le chainsaw ma non sono riuscito a risolvere niente per la farm di alberi a quella ancora dovrò lavorarci mentre invece qua è la farm quella funzionante che con cui io mi trovo meglio diciamo lui utilizza dei pistoni questo nostro amico però quello in sorta sfrutta una specie di bug del del deployer perché il deployer quando mette i semi in un posto che non sono un suolo fertile diciamo appare la pianta anche se non dovrebbe apparire e il il pistone può spostare può spostare le piante a parte che non so come mai ma qua ho dei bug su questa versione di mind test o della mese con ma come potete vedere quale aveva arrestato all'inizio del video se controllate c'era il il cotone cresciuto e quindi se attivo un pistone mi mi crasha mind test questo non so come mai dovrò poi lavorarci quindi caro amico non posso attuare al momento alcune versioni con i pistoni perché mi crasha tutto se si attivano i pistoni ma anche solo con un pulsante o qualsiasi impulso che li fa attivare crasha anche se non devono spostare niente crasha e niente poi vi ho fatto vedere anche una parte in cui c'è una schiera in cui un pistone sposta vari vari di questi è una cosa comoda diciamo per mettere varie in fila occupando meno spazio questo qua in pratica funziona similmente a quello solo che qua direttamente c'è già la divisione senza filtri alle varie che va qua sotto qua sotto vanno i semi e qua vanno i valgrano l'unica cosa che bisogna mettere all'inizio un po di semi nel deployer perché all'inizio il deployer si attiverà che non ha ancora ricevuto i semi dalla prima pianta che è stata arvestata perché ci mette di più il tubo a portare i semi giù sotto di un secondo che è il segnale che riceve quindi per non mettere un sacco di delayer là che serverebbero solo per la prima volta funziona così questo appunto è il node detector che come potete vedere è settato a farming 2.witt trattino in basso 8 che vuol dire l'ultima fase del grano perché la pianta del grano ha 8 fasi come potete vedere anche sulla wiki di mine test e appunto questo indica che la pianta deve essere all'ultimo stadio quando la pianta è all'ultimo stadio quello si attiva da un segnale al node breaker che quindi prende rompe la pianta e prende il drop e attiva appunto giù sotto anche il deployer che mette poi degli altri degli altri semi qua va la pianta poi come potete vedere l'altro giorno l'ho lasciata un po' attiva mi ha raccolto un po' di grano non tantissimo perché più o meno fa un ciclo ogni 10 minuti la pianta c'è scritto sulla wiki di mine test poi dipende anche perché può crescere più in fretta può crescere un po' meno in fretta comunque più o meno è quello il cotone invece ci mette un po' di meno diciamo per crescere però è comunque più o meno là nell'ordine dei 10 minuti forse 9 minuti e mezzo una cosa del genere e qua appunto è la stessa cosa solo che con il cotone è la stessa cosa qua farming cotton tartino in basso 8 underscore se volete chiamarlo in inglese e niente è da mandare un segnale qua qua raccoglie il cotone appunto dove giù sotto poi qua come ci diceva appunto questo nostro carissimo utente che davvero ringrazio tantissimo e spero che resti con noi fedelmente perché abbiamo bisogno di un sacco di gente come lui quindi se c'è qualcuno che vuole commentare faccia un complimento anche lui ha questo carissimo utente per farlo restare qui con noi si possono utilizzare degli autocrafter poi uno qua per fare la lana e qua per fare la farina cuocerla poi avere direttamente del pane cotto direttamente qua lui utilizzava forse qualche mod che noi non abbiamo perché parlava di olio fatto dalle foglie delle piante che prende da una farm di alberi che tra l'altro non ho ancora bene capito come gestisce lui ma noi con un pannello solare probabilmente o comunque con un geothermal generator e una fornace elettrica possiamo semplicemente risolvere questo problema senza aver bisogno di intervenire diciamo sul circuito e ricevere direttamente pane pronto in casa qua era la questione delle piante della farm di alberi il problema della farm di alberi è il fatto che io non so attualmente come impostare il fatto perché la chainsaw dal node breaker perché io metterei un node breaker davanti alla pianta attivabile magari con un node detector che vede quando c'è del legno quando c'è il legno vuol dire che la pianta è pronta qua dentro vedete come c'è no qua dentro potete vedere che c'è uno spazio per l'inventario là possiamo mettere la chainsaw e quella arvesterebbe direttamente tutto l'albero poi avevamo le pipe quelle che aspirano e si risolve diciamo il tutto l'unica cosa è che la chainsaw va ricaricata e magari sarebbe comodo anche farla automaticamente in modo da far una farm completamente automatica solo che appunto qua avevo provato a fare una prova vedendo se per caso mettendo qua una chainsaw scarica prendesse solo le chainsaw scariche ma effettivamente non fa così e quindi niente anche perché questo è un preferred item types e poi non so se hanno un id diverso quella carica da quella scarica eccetera eccetera avrei bisogno appunto di riconoscere che questa è scarica e riconoscere dall'altra parte dove ci sarà la batteria per caricarla che quella è carica potrei mettere dei delayer però sarebbe davvero molto lungo perché avrei bisogno di tantissimi delayer per aspettare di quanto 4-5 cicli di alberi perché credo ci vogliano no anche di più per scaricare una chainsaw e ci vuole parecchio per ricaricarla e altrimenti farla girare continuamente non avrebbe senso secondo me perché non so neanche se si fermerebbe il tempo necessario per ricaricarsi per rompere gli alberi suppongo di sì perché basterebbe poco però per ricaricarsi penso proprio di no di conseguenza niente sono un po' a un punto morto qua dovrei capire forse con un lua controller il lua controller risolverebbe il problema ma non sono molto pratico di quelle cose quindi carissimo utente nostro amico di sicuro pronuncerò male il tuo nick scusami per questo se hai degli altri consigli da darmi perché io pensavo di lavorare su questo punto non so magari sul server dove giochi tu c'è la 3capitator del tank timber credo ah avete visto? si è attivato quello avete visto per un attimo era verde lui ha harvestato e sottomesso i semi infatti adesso ne avremo 16 perfetto e niente dicevo quindi magari se hai l'altro recapitator è più facile perché basta semplicemente rifornire di accette nuove un node breaker che appunto fa cadere un albero completamente con un colpo di accette cioè nel senso tagliando un blocco solo cade giù tutto l'albero aspiri tutto il coso quindi GG detto questo io concluderei qua questo video perché è già venuto di 11 minuti praticamente io ho pochissimo tempo voglio registrarvi più video possibili per non lasciarvi senza video nel prossimo video di Mindtest ho detto tantissime volte video vedremo un po' all'opera questo tipo di farm qua e proveremo a vedere come applicarla diciamo nel nostro mondo ah questo mondo in creativa mi sembrava di averlo detto ma lo specifico ancora un'altra volta che utilizzo per fare delle prove di questo tipo ciao a tutti ragazzi buona giornata ciao a tutti ciao a tutti